un saluto a tutti e benvenuti a una nuova puntata di game compass ciao simone ciao vincenzo ciao ragazzi oggi è più fresca oggi è un po più fresca perché man mano che ci inoltriamo verso settembre qualche grado di meno mi dà felicità la mia testa non è lucida però però in maniche corte io quando arriverà winter is coming e quando arriverà veramente l'inverno io sarò felice perché sono un orso polare in realtà ma veniamo all'argomento del giorno ve l'avevamo promesso l'altra volta in particolare con simone abbiamo fatto questa promessa ti abbiamo tirato dentro per questa puntata su un tema importantissimo gli sviluppatori italiani oggi i protagonisti sono particolarmente affezionati ma fra l'altro anch'io sono felicissimo di questo tema insomma è proprio il nostro campanilismo oggi si sfogherà alla grandissima praticamente e quindi l'altra volta abbiamo parlato di mario rabbis kingdom battle abbiamo parlato del lavoro straordinario di ubisoft milano abbiamo detto ovviamente che ci sono quindi dei punti che ci sembrano positivi dei momenti insomma importanti per il gaming italiano quelli come quelli delle scorse settimane fra l'altro abbiamo avuto qualche altro gioco importante che ho di cui ora parleremo però insomma ok abbiamo avuto mario rabbis ultimamente ovosonico ha pubblicato last day of june però insomma il gaming ancora e lo sviluppo di videogiochi sembra un po arrancare ancora mi sembra che siamo indietro cioè non siamo comunque il livello dell'arte della francia non siamo i livelli delle altre nazioni e allora la domandona è fondamentale perché perché bella domanda domanda su cui si potrebbero parlare una cosa molto filosofica in realtà chi si vuole lanciare per primo chi vede dei fattori datemi un fattore datemene uno uno un fattore allora uno dei fattori forse che hanno più incisività diciamo su su questo perché potrebbe essere la fruibilità dei servizi quindi delle accademie in questo caso perché uno sono poche sono davvero poche non so se magari culturalmente ancora non siamo pronti eccetera però le accademie sono davvero poche si contano davvero su sulle mani c'è l'amus c'è digital bros no esattamente c'è figa mos c'è digital boss tra l'altro documentando un po così sul sul web io ho scoperto che tra le altre cose viga mos credo che sia una delle più care perché un anno accademico costa 7 mila euro e una laurea è composta da tre anni sono 21 mila euro più tasse di iscrizione come radica se non sei ricco non puoi diventare uno sviluppatore ecco questo è il la motiva una delle motivazioni quindi diciamo c'è un gap voglio riassumere a questo punto di know how tecnologico a questo punto perché giustamente dici chi può andarsi a formare in certe istituzioni deve poter servono esserci delle cose di fondo da una base da cui partire quindi scegliete se andare in una di queste accademie o la bocconi praticamente praticamente sì esatto è quello il discorso io mi ricollego subito a questo argomento dicendo che potrebbe anche essere appunto un problema culturale quello per cui non riusciamo ad evolverci in questo senso ovvero sì è vero lui mi dice che le accademie costano il costo che hanno è giustificatissimo nel senso che la tecnologia che si utilizza e che si insegna a utilizzare ha dei costi e quindi di conseguenza certo però tagli le gambe a tutti quei ragazzi che magari di conseguenza si sviluppa anche quel problema lì culturale per cui magari un genitore che deve scegliere se mandare il proprio figlio appunto alla bocconi o a inseguire il suo sogno di sviluppatore gli dice vai alla bocconi o vai alla cattolica perché poi tra l'altro ragazzi c'è un pregiudizio ancora poi tra l'altro ragazzi oltre questo oltre questo denaro c'è anche ci sono anche altre spese di cui non stiamo qui a parlare però lo sappiamo come funziona quello te lo potrei dire anche io sono stato all'estero a studiare appunto in una scuola professionale e chi meglio di te allora ecco ma infatti ci sono ci sono due fattori che sono quindi quello diciamo del know how quello culturale che a questo punto mi portano per l'ennesima volta poi a dire incentivi la politica ovviamente incentiva poco sia gli sviluppatori sia a questo punto lo studio probabilmente questo tipo di accademia tra l'altro sarebbe bello se la politica cominciasse anche a finanziare dei programmi per conoscere di più la cultura del videogioco in italia ok ma ciò nonostante dicevamo le grosse case ci sono abbiamo anche sviluppatori che crescono e crescono benissimo e questo ci rende felicissimo ora oggi dedichiamo a questo punto la nostra video recensione del giorno a un gioco bellissimo bellissimo che è stato sviluppato da ovo sonico dei ragazzi o sonico che salutiamo perché sono stati bravissimi e il nostro giosuera guccia l'ha giocato si è commosso distrutto lo ha sentito non è uscito però per una settimana quello che ha detto magari appunto ci sono video giochi e ti emozionano così tanto allora sentiamo che emozioni li ha suscitato sentiamo cosa ne pensa di questo gioco appunto sentiamo la video recensione di last day of june cosa saresti disposto a fare per salvare la persona che ami con questa domanda ovo sonico e 505 games presentano al mondo last day of june nuova avventura tutta italiana che tratta i difficili temi dell'amore della morte del ricordo ci sono giochi che lasciano emozioni altri che le fanno vivere personaggi per cui si prova simpatia storie che stillano rabbia che ci fanno commuovere o a volte disperare last day of june è uno di quei titoli che sul piano emozionale riesce a farci andare a livello successivo in appena tre ore di gioco i protagonisti di questa storia sono i novelli sposini carl timido e impacciato e june un artista dolce e romantica accompagnati dai abitanti del villaggio in cui vivono il bambino la giovane donna innamorata il cacciatore e il tenero vecchietto il loro idillio d'amore è però rotto da un incidente inaspettato e ogni tentativo di poter rimediare sarà vano ogni evento porterà inessorabilmente verso un tragico destino la perdita del partner è lo spezzarsi di un incantesimo cambia la vita di chi rimane e così accade al nostro protagonista i sviluppatori di ovo sonico sono stati attentissimi e meticolosi a questo cambiamento anche sul piano contestuale da un certo punto in poi gli ambienti cambiano radicalmente i colori dolci tramutano un'atmosfera placida e rilassante in un quadro buio e tetro che trasuda lo stato d'animo sofferente del protagonista il quale bloccato su una sedia a rotelle si troverà a raccogliere ritratti degli abitanti fatti da june tramite i quali potrà cambiare il passato un meccanismo che ricorda da vicino il film the butterfly effect in cui il protagonista ivan interpretato da aston catcher è costretto ad aggrapparsi ai ricordi per poter cambiare il presente una volta raccolto un dipinto ci si al giorno dell'incidente con qualche ora di anticipo e si avrà modo di modificare il passato per poter evitare l'accaduto facendo intrecciare le storie in un grande puzzle di rapporti causa effetto il gameplay è scarno ed essenziale il numero di azioni è limitato ma funzionale alla storia che si vuole raccontare gli accadimenti si ripetono e a volte le azioni stesse ma senza ridondanza restituendo al meglio il disagio e il dolore che inevitabilmente permeano la storia questo non significa che ci si potrà adagiare sugli allori il giocatore dovrà darsi da fare e risolvere piccoli puzzle di cui si compone questa avventura grafica sul piano tecnico tutto sembra improntato alla massima resa artistica e il risultato è assolutamente poetico sul piano visivo con cromatismi chiaroscuri che restituiscono ogni singolo stato d'animo è una colonna sonora che traina sapientemente la storia dall'inizio alla fine last day of june è un titolo che travolge sul piano emozionale e risulta un'esperienza imprescindibile che dimostra quanto gli sviluppatori italiani sappiano raccontare storie arrivando a picchi di poesia inaspettata e senza buchi di trama affrontando tematiche complesse il ritorno al passato del titolo di ovo sonico regala al giocatore un intreccio di storie che raccolgono emozioni morte e amore in maniera armonica ed equilibrata offrendo al pubblico un'avventura pronta a commuovere i giocatori di ogni età e allora questa era la video recensione di last day of june di ovo sonico diciamo con mo sono commosso anch'io io pensavo che c'è per pezzo che se l'avesse letta a giosuetico l'avrebbe fatto tipo piangere abbiamo evitato proprio per questo perché dopo il secondo singhiozzo non ci pareva il caso l'abbiamo portato a bere per dimenticare e allora però adesso noi vogliamo ricordare quali sono gli sviluppatori caspita grossi in italia che abbiamo detto sonico insomma ora non si può dire che sia fra i più grossi però in intanto in crescita ed è veramente bello vedere un po come si sta evolvendo questo dire uno io che ce l'ho a cuore parliamo venire grosso vediamo grossissimo la milestone milestone in my heart sì è la più grossa diciamo in italia insieme ad ubisoft milano ovviamente solo che maestro è proprio tutta italiana maestro è tutta italiana dal 96 nata a milano è grazie si può il vecchio nome era graffiti fra l'altro di molto vecchio molto vecchio probabilmente tra l'altro all'inizio non facevano nemmeno moto gp facevano giochi come appunto screamer era sempre la guida questo ti stavo dicendo stavo dicendo noi anzianotti potremmo ricordarci di screamer screamer era un gioco che uscì e io giocai da piccolissimo in un pc di un amico tra le altre cose vabbè però diciamo immediatamente da lì poi iniziarono a fare vari moto gp 2008 poi tutti quelli che fino arrivare fino ad arrivare a giochi quali quello che hanno presentato al gamescom recentemente graven pure ci sono titoli come ride 2 moto moto gp 17 appunto la 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 console la playstation 4 brandizzata valentino rossi diciamo che uno studio no ecco è come no tra l'altro non è l'unico dai in italia ce ne abbiamo parliamo di qualche esperienza virtuosa infatti dai cambiamo argomento non parliamo più di racing quindi di cuno simulazione giusto perché aspira vedi in effetti questo potrebbe essere un sì e perché infatti impazza così tanto il racing in italia perché siamo un eccellenza nelle corse anche è vero dal vivo cioè non solo dei videogame e quindi probabilmente non probabilmente sicuramente per quello anche perché alcuno sto simulazioni creano simulatori e poi da quello hanno sviluppato il loro assetto corsa che il gioco e diciamo che ha fatto furore agli ultimi due tre anni sento infatti le mozioni di marcello ribuffo sì io sento il rombo di marcello infatti abbiamo tu ne conosci altre ma il sono alcuno sono appunto eccellenze dal punto di vista del racing le simulazioni ovviamente io voglio sempre ricordare ubisoft milano che dai lavoretti appunto diciamo lavoretti dove non faceva non era veramente la protagonista di sviluppo del team io voglio dire anche beyond good and evil ebbero di dare un contributo ora comunque con mario e rabbis kingdom battle penso che abbiano fatto il salto però insomma c'è anche il gruppo digital bros che sta comunque dando qualcosa di buono e dal punto di vista della produzione con 505 games che insomma ha prodotto ottimi giochi le anche distribuiti ma anche con halifax che fa parte del gruppo che distribuisce principalmente questi giochi e la distribuzione è un fattore importantissimo nell'industria videoludica quindi non la sottovaluta tra l'altro halifax traduce anche se non ricordo male fa anche delle tradizioni e localizzazioni in italiano sì infatti questo mi riporterebbe tra l'altro un argomento a cui non avevo ancora pensato che se vi ricordate si di project red i polacchi iniziarono proprio in questo modo distribuendo traducendo giochi già esistenti e poi che non sia questo la svolta che stiamo aspettando in italia magari distributori che cercano di investire cominciano a investire sulla produzione questo potrebbe essere infatti un bell'interrogativo io lo interrompo perché voglio dare un attimo la linea al tg come si fa in questi casi quando ci sono le ultime notizie lo voglio dare al nostro grande direttore e appunto giornalista di punta nonché youtuber angelo ruoppolo e al suo vg compass benvenuti a una nuova puntata del vg compass passiamo subito alle notizie della giornata per i gamer instancabili coca cola ha voluto creare la bevanda che aspettavano da tempo il drink è un'unione di caffè e coca cola che contiene il 50 per cento di caffeina in più e promette miracoli coca cola coffee plus terrà svegli giocatori nelle loro interminabili sessioni e ha promesso premi speciali per coloro che sopravviveranno all'esaurimento nervoso mario e peach sono la coppia più famosa nel mondo dei videogiochi come luigi e daisy ma molti fan si chiedono perché wario e waluigi non abbiano un partner ebbene è stato lo stesso creatore shigeru miyamoto in un'intervista alla rivista nintendo power a spiegare di non avere voluto disegnare le fidanzate di wario e waluigi perché avrebbero distratto i due dalla propria missione e ha inoltre dichiarato ho scelto di non crearle dopo avere visto la fine che ha fatto mario durante le sue avventure per salvare la sua ragazza godzilla monster planet permetterà di poter vedere il famoso mostro nipponico in vesti totalmente inedite da questo novembre sarà disponibile in giappone una fusione tra hello kitty e godzilla rendendo quest'ultimo un mostro molto dolce kawai per la realizzazione di godzilla monster planet toho e sario hanno collaborato per una serie di disegni sulla leggendaria lucertola giapponese ma lo stesso toho non ha dormito per giorni avendo continui incubi sulla possibile vendetta del mostro e da questa edizione del video giornale compass è tutto appuntamento alla prossima giocata e allora quindi ben ritornati studio adesso abbiamo parlato dei grossi studi in italia ma non sono soltanto grossi studi io direi che anzi l'italia come un paese di piccole e medie imprese anche nell'industria videoludica l'italia consta soprattutto i tanti piccoli e medi sviluppatori talentuosissimi che insomma hanno tanto da dire ora voglio che voi mi ditemi i vostri preferiti insomma vai vai senza dilungarmi troppo vabbè il per me quello più importante è tra l'altro il nostro amico chris derryl con la sua grande lo salutiamo tanto aspettiamo il suo remoto tormento perché devo dire che tra gli indie remoto red è molto ben fatto e ben sviluppato tra gli indie poi vabbè ovo sonico beh sì anche anche se hanno distrutto un nostro collaboratore però sono bravi davvero continuate così continuate così io dalla mia ci aggiungo mix e bag che sono i ragazzi di torino e recensito che hanno fatto e futuridium prima che sono finiti anche sulle console principali su xbox su playstation eccetera anche su switch adesso su wii u e quindi diciamo sono indie però di un certo spessore anche noi li abbiamo in italia e penso che questa sia una delle strade da percorrere per fare evolvere questa industria ovvero buttarsi sulla sull'in sullo sviluppo indipendente io tra l'altro vorrei ricordare anche qualcuno che noi abbiamo intervistato in particolare al display vincitori del dragodoro che sono i ragazzi 34 big things autori red out che tu hai giocato che io ho giocato e ho recensito sul nostro sito web poi vorrei dire e ricordare anche quelli che sono gli sviluppatori di due bei giochi che sono arrivati anche sul console che sono appunto i ragazzi di stormina t cup produttori di nero e lantern e sviluppatori di questi due titoli insomma mi aspetto molto anche da loro e poi ovviamente il campanilismo io di genere un campanilismo non appunto nazionale ma di genere le avventure grafiche si continuano a produrre in italia e ci sono piccole realtà e lo fanno benissimo elf games works per esempio con little brian rose ci ha dato un ottimo esempio però io vorrei ricordare anche i fratelli de angelis di footprints games che hanno fatto detective gallo ma anche secondo me sono molto interessanti gli autori di the wardrobe che sono i ragazzi di sinic games insomma secondo me ci sono realtà ne stiamo dimenticando altre scusateci tutti perché in effetti scriveteci in realtà io è corretto che nomini anche la stormina in games perché collaboro insieme a daryl per per lo sviluppo di remodered quindi è giusto che vengano nominati anche loro chris quando dici tu vieni qua in studio e ci racconti un po la storia di remodered tutto il resto questo è l'ennesimo invito ufficiale e allora a questo punto noi andiamo facciamo una cosa dato che questo è il presente nostro marcello è andato una volta ancora a scavare nella storia di quello che fondamentalmente è il gaming in italia di lo sviluppo e la produzione che ha una storia veramente bellissima e anche abbastanza antica e molto interessante vediamo un po questa italian gaming history a cui non ricordi quando si parla di videogiochi l'italia e tre paesi industrializzati meno gettonati software house poco presente soprattutto una cultura non a passo col resto del mondo ci hanno un po penalizzati anche a livello di mercato solo adesso vediamo un po di luce con software house come milestone e kunos e nuove realtà emergenti come caracal games mixed bag e storm in anti cap e altre che stanno cercando di dare un po di lustro al nostro paese nonostante i cabinati fossero già comuni a partire dagli anni 70 e dal decennio successivo che il nostro paese comincia a realmente a muovere i primi passi all'interno di un mercato in ascesa costante nel 1981 la zaccaria costruì il suo primo cabinato il quasar non solo era una novità in sé ma risultò anche innovativo per via dell'introduzione del coop infatti due giocatori potevano condividere il singolo schermo entrando nella stessa partita questa peculiarità lo spinse appunto di essere uno dei cabinati più apprezzati negli stati uniti nel frattempo però oltre alla costruzione di intere macchine da gioco divenne fondamentale entrare nel mercato videoludico con dei software proprietari essendo la patria del calcio uno dei primi videogiochi italiani ad avere un discreto successo fu l'iplay 3d soccer per amiga e commodore 64 sviluppato da simul mondo se oggi possiamo giocare a fifa o pro evolution lo dobbiamo anche a questo in quanto fu uno dei primi giochi di calcio con visuale tridimensionale dall'interno dell'ertangolo di gioco questa software house italiana si dedicò successivamente alla produzione di avventure grafiche fra cui quelle su di landhog che ebbero un discreto successo se sui software gli italiani cominciavano a prendere spazio sull'hardware le difficoltà cominciavano a diventare eccessive l'8 bit era ormai obsoleto e 9 più potenti macchine tra cui il pc che entrava nelle case portarono le società italiane a rinunciare alla produzione di proprie console per via dei costi divenuti ormai probiettivi tra i giochi più conosciuti in questi anni vi è sicuramente l'upalberto basato sul fumetto creato da silver nel 1973 tra quegli anni e il nuovo secolo nascono e muoiono infinite software house ma se c'è un elemento che ha cambiato radicalmente la fama delle società italiane è sicuramente il nintendo game boy advance per il quale lo sviluppo di titoli italiani ebbe notevoli fortuna questo spinse alla creazione tanto da diventare pionieri allo sviluppo di giochi per atlet che ebbero notevole successo anche fuori dai confini italici nel nuovo secolo è sempre milson a fare la voce grossa collaborando con colossi del calibro di elettronic arts super bike 2000 super bike 2001 sfruttando la licenza della super bike riscossero un ottimo successo internazionale sia da critica che di pubblico considerati ancora tutt'oggi tra i migliori giochi sulle due ruote di sempre il 2000 è un anno importante anche per l'entrata in scena del primo studio ubisoft in italia ubisoft milano che contribuì a dare natali a paperino operazione papero lo studio milanese ha aumentato di anno in anno la sua sfera di influenza passando dallo sviluppo e la conversione di titoli per console portatili fino allo sviluppo di interi titoli come l'acclamatissimo e recentissimo mario plus rabbits kingdom battle e dunque arriviamo a oggi chi si ritaglia ampio spazio nel settore è sicuramente milestone che sfruttando licenze come quella del moto mondiale conquista ogni anno grandi consensi da parte di critica e pubblico nonostante tecnicamente non a passo quei tempi ma è comunque tra le software house più apprezzata a livello globale chi ha mosso i primi passi in questi anni è molto bene anche ecuno simulazioni che ha portato e sta ancora portando avanti il progetto assetto corsa in grado di rivaleggiare con i pezzi grossi del settore come turn 10 e polifoni digital facendosi ben valere è una delle maggiori realtà italiane e anche questo sta contribuendo alla crescita di piccoli team di venir fuori tra cui oltre a quelli già citati all'inizio c'è anche ovo sonico che appena sfornato il suo piccolo capolavoro last day of june il futuro sembra quanto più roseo e dopo un lungo e tortuoso percorso siamo riusciti finalmente a ritagliarci il nostro spazio nell'immenso universo dei videogiochi bene quindi questa è la storia del gaming italiano tra l'altro simul mondo oggi la buttiamo proprio sulle emozioni oggi tra mi sono commosso io praticamente ricordo che li compravene dico le robe simul mondo ma passiamo dal passato a questo punto torniamo non al presente andiamo verso il futuro adesso a questo punto va bene il gaming in italia non è florido però a potenziale abbiamo detto sottolineando le somme il passato comunque in qualche modo è glorioso perché abbiamo avuto tantissimi esponenti anche di talento e allora come lo vediamo il futuro del gaming restiamo così arenati secondo voi oppure qualche passo avanti lo lo faremo e dove dove dobbiamo fare i maggiori passi avanti probabilmente allora sicuramente i maggiori passi avanti li dobbiamo fare nell'ambito accademico perché per quel che mi riguarda se si offre sì perché se si offre sì assolutamente se si se si offrisse la possibilità a più studenti di poter intraprendere una carriera accademica in quell'ambito sicuramente l'italia ne gioverebbe sempre in ambito videoludico perché dando la possibilità anche a persone che non sono così abbenestanti diciamo si può sviluppare molto di più in italia moltissimo io con la mia esperienza abbiamo fatto una piccola software house ma ci siamo bloccati per via di finanziamenti e robe del genere quindi torniamo al problema dicevo io la mancanza anche di aiuti pubblici purtroppo sì noi le basi le avevamo ma purtroppo abbiamo dovuto chiuderebbe attenti perché per forze di causa maggiore e quindi big amos digital bros che ce ne siano tante altre tante altre ancora in maniera da poter promuovere questa nuova io dico che se guardiamo al passato guardiamo il presente di conseguenza sappiamo dove andare in futuro e cosa migliorare questi sono tutti i punti di cui abbiamo parlato prima sostanzialmente come dice vincenzo ha ragione ma ha ragione anche chi dice che ci dovrebbero essere dei finanziamenti o degli aiuti diciamo da parte dello stato oppure ce ne andiamo via e spatriamo perché milioni di ragazzi italiani programmatori designer eccetera lavorano e fanno gavetta fuori prima di investire magari qua in italia e fanno bene nel senso che adesso in in europa nel resto del mondo si trova quello che noi non abbiamo assolutamente dovremmo prendere esempio da come sempre come ogni esattamente già anche oltre alpe abbiamo la francia insomma di esempi non hanno solo la franco che è scappato polonia polonia svezia che sfornano olanda basta fare una vacanza esattamente va fra l'altro allora io direi questo tutto vero fra l'altro insomma nonostante ovviamente anche io ogni tanto pezzi di espatria io spero che veramente invece qua in italia restino gli sviluppatori e possano ovviamente andare avanti io vi dico una cosa da un lato sono d'accordo con te sul fattore culturale e vi dico di più io spero che nelle scuole comincino a prendere in considerazione il videogame come arte ma come dovrebbero prendere più in considerazione il cinema tutte le arti trasversali alla letteratura che ancora non sono per far prendere invece più sul serio il gioco a casa ci pensiamo noi con game compas infatti noi vogliamo anche educare ricordare ovviamente prima o poi dediceremo abbiamo detto una puntata al peghi c'è un'educazione dietro i video che è fondamentale da un lato d'altro canto io ecco l'ultimo spiccio prima di salutare che faccio è il seguente e riguarda gli e-sports manca ancora un e-sport tutto italiano ecco allora io spero che uno sviluppatore io non sono un giocatore di e-sport però siccome so che l'economia che cresce sviluppa poi aiuta gli indipendenti quindi spero che mi sviluppino più avventure grafiche a un certo punto degli indipendenti allora io spero che prima o poi qualcuno si inventi un e-sport italiano che abbia successo e questo sarebbe un bel motore per il futuro bene allora a questo punto io saluterei i nostri telespettatori direi appunto al solito seguiteci tutto quello che avete visto al solito c'è www.gamecompas.it un sito aggiornatissimo bellissimo agilissimo dove trovate qualunque contenuto vogliate ci sono i nostri canali youtube facebook instagram twitter google plus abbiamo anche il linkedin quindi mandateci i vostri curriculum noi diremo bravi avete un curriculum bellissimo non possiamo pagare cosa ci fate ancora qui però vi accoglieremo a braccia aperte se volete collaborare e allora a questo punto ragazzi io vi lascio alla nostra top five dei cinque migliori videogame made in italy e a questo punto appuntamento alla prossima puntata ciao ragazzi lo sviluppo di videogame è stato sin dagli albori appannaggio principalmente di sviluppatori giapponesi e statunitensi ma anche l'europa ha detto la sua con risultati a volte sorprendenti in questo scenario la produzione videoludica in italia non è di certo fra le più fervide ma anche il bel paese ha espresso vari titoli interessanti e fra questi ne abbiamo selezionati cinque davvero indimenticabili al quinto posto abbiamo diabolic the original sin tratto dal noto fumetto delle sorelle giussani il titolo mette il giocatore nei panni di evacant prima e di diabolic poi mettendo in scena una storia dalla fluida giocabilità e dalla trama curata nella quale non mancherà l'ispettore ginko a metterci bastoni fra le ruote al quarto posto abbiamo nippon safe sviluppato dai genovesi dainabite il gioco ci mette nei panni di tre personaggi interamente ambientato a tokyo nippon safe è un'avventura grafica dai contorni fumettosi molto ben curata con una trama non lineare ma solida e un umorismo intelligente che legano sapientemente i ritmi della commedia a quelli della crime story al terzo posto troviamo the watchmaker pubblicato nel 2001 da tre season si tratta di un videogame investigativo dei tratti paranormali che riesce a offrire buoni dialoghi e enigmi di riguardo e una bella trama regalando un'avventura grafica che in molti ricordano ancora oggi al secondo posto troviamo un grande classico dei giochi di guida all'italiana screamer nato negli studi graffiti azienda oggi internazionalmente conosciuta come milestone era un gioco di guida arcade che richiamava ridge racer e che godeva di una buona grafica bei colori e di una buona longevità al punto da guadagnarsi le lodi della critica internazionale a questo gioco seguirono screamer 2 screamer rally e il progetto finì lì perché milestone decise di sviluppare soltanto giochi su licenza fino ad arrivare nel 2000 a un altro grande successo con superbike e il primo posto va a una delle poche avventure grafiche italiane che sono davvero riuscite a rivaleggiare con i giganti d'oltreoceano stiamo parlando di Tony Tuff and the night of roasted mods avventura dalla grafica ben curata e cartunesca e che gode di enigmi intriganti di una trama molto ben congegnata di dialoghi straordinari e di un caratter design che rende i protagonisti e altri personaggi di contorno davvero indimenticabili sicuramente una pietra miliare delle avventure italiane che trovo anche un sequel in Tony Tuff 2 a Rake's Progress pur non godendo dello stesso successo ciao